Nelle ultime tre partite la Juventus ha fatto due punti, sette gol segnati, nove subiti. Nove gol subiti, due rigori dati con l'Atalanta e va bene, preso di culo quel punto. Oggi col Sassuolo preso di culo un altro punto. L'Inter domani si può portare a sei punti se vince con la Spal. E allora a quel punto a me da interista mi girano i coglioni che senza i punti, almeno del Bologna, almeno del Bologna saremmo lì a lottare. La Juventus glielo stanno regalando questo campionato, gliel'hanno impacchettato, glielo stanno dando, perché la Juventus non lo merita, questa squadra non lo merita, è una squadra strana, è il gioco più brutto della Juventus degli ultimi dieci anni, col signor Ronaldo 30 milioni al me all'anno. Signor Ronaldo 30 milioni all'anno. È peggio della Juve di Allegri, la Juve di Allegri sarebbe stata già a 150 punti in confronto a questa Juve. Per quello che me ne frega a me di quanto mi piace, a me non piace per niente la Juventus, lo sapete benissimo, però glielo stanno regalando quella, se gli regalano il campionato al Cavaldonato non si guarda in bocca, giustamente. E l'altro che glielo sta regalando questo campionato è il signor Di Bala, il signor Di Bala che doveva essere venduto al Tuttenham, se vi ricordate. Vi ricordate era del Tuttenham questo giocatore. In estate si diceva, ormai è andato, non vuole firmare, e lui sta risolvendo tutto, segno che anche la Juventus da come è stata costruita è una Juventus da niente, da niente. Mi girano i coglioni che il culo che hanno, il culo che hanno. Con l'Atalanta, porca puttana, l'Atalanta dovrebbe essere molto molto più vicina, ce la poteva fare, io l'avevo detto, l'Atalanta può vincere il campionato. Cazzo, due rigori del cavolo, porca miseria. Altrimenti l'Atalanta sarebbe stata la vicino. Sarebbe stata la vicino, i rigori c'erano, ve lo dico inutile, non faccio polemiche, non faccio nulla, i rigori c'erano di culo, ma c'erano. Cioè la Juventus con l'Atalanta dovevano a perdere. Io ho tutti i commenti che ho visto sui miei video, l'Atalanta ha giocato meglio, il Sassuolo ha giocato meglio, hai due gol di vantaggio, a proposito, ma è un po' grossetto, è una mia impressione. Cioè anche come i giocatori che ha la Juventus in questo momento non lo so. Però, due golle, due gol di vantaggio, zoom, tre a due sotto, e dopo prende quel gol, e porca puttana. Altrimenti davvero si poteva, questo campionato potrebbe essere ancora più carino, ma è una cosa tutta sconclusionata, scarafellata, non lo so. Questa Juventus esce con Lione. Questa Juventus esce con Lione, ragazzi. Il Lione se la fa a spezzatino. Il Lione se la fa a spezzatino. Il nostro campionato, in questo momento, il valore del nostro campionato a livello di gioco è scarso. È scarso. Hanno tutti i cazzi. La Lazio a cazzi, perché sono veramente tre partite di seguito, e dopo così vai a Udine e ti prendi il punticino, perché la Lazio sta boccheggiando. L'Atalanta, sì, è vero, tutti dicono l'Atalanta spettacolare, l'Atalanta 8 gol, l'Atalanta 7 gol, ma l'Atalanta ha gli stessi punti della Lazio e dell'Inter, quindi così spettacolare non lo so. L'Inter, che praticamente a Conte gli stanno dicendo senti ti accomodi e te ne vai dalla pinettina, secondo me stanno aprendo la porta e dicono per favore, se vuoi andare vai, che nessuno è contento. L'Inter così scarrucciata, che sta giocando male, si può trovare a sei punti. Un campionato strano, lo stesso Milan, senza Giampaolo. Probabilmente a questo momento saremmo anche lì, Milan. Forse la squadra più forte di questo campionato l'avevano costruita, e sto dicendo una mezza eresia, lo so benissimo, ma forse. Boban e Maldini avevano costruito un buon Milan. Il Milan è quello che da quando siamo entrati al lockdown è secondo in campionato, dietro l'Atalanta. Per farvi capire di quanto questa Juventus sta andando a vincere questo campionato, che mi girano i coglioni! L'ho detta un po' così, l'ho detta veloce, ma è così, è così, cavolo! Oh, ragazzi, questi hanno Dibba, Leguain, Alexandro, Dagras Costa, Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Io quando faccio le live, o da tutto il mondo, c'è sempre sta cazzo di domanda chi è meglio, Messi o Ronaldo? Messi o Ronaldo? Perché Ronaldo è ancora il nome. Però! Hanno Cristiano Ronaldo, hanno Bonucci, che non ha giocato oggi, va bene, Chiellini, hanno De Ligt, hanno speso centinaia di milioni per ritrovarsi una squadra che va a Sassuov o a Reggio Emilia e va così, con l'Atalanta e va così. Ma porca puttana! Porca puttana, questo campionato se lo poteva perdere, lo poteva perdere, secondo me può ancora perderlo. Secondo me può ancora perderlo, perché se questi perdono con la Lazio, se riescono a fare zero punti con la Lazio, se la Lazio ne fa una, se si sveglia ora, se si sveglia in questa partita, ne fa una, e l'Inter va a tre punti, l'Atalanta va a tre punti, dopo ce la giochiamo. Dopo ce la giochiamo, perché dopo lo devono andare a Utine, dopo c'è Juve-Samp, dopo ci sono un po' di ostacoli. Io questo campionato è ancora vivo, questo campionato è ancora vivo. Però, porca puttana, ragazzi, eravamo lì, eravamo lì vicini, eravamo lì vicini, porca della puttana! I miei vicini quasi mi verranno a incazzare. Voglio fare una cosa pulita, ragazzi, però non ci... Quando vedo la Juventus, vedo il rosso. Quando vedo la Juventus, io perdo, perdo, perché mi aspettavo che perdesse sta partita. L'avevo detto nella mia rubrica, pronostico e scommesse, e tutti, pochissimi, quei quattro che mi hanno preso in giro, ma Sassuolo vince con la Juve, ma che dì? Il Sassuolo in questo momento gioca meglio della Juve. Tantissime squadre giocano meglio della Juve. Le quattro pappine prese col Milan non sono venute così. È perché la Juve è zero! 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 Eppure si prende i punti! E vabbè! E vabbè! E vabbè! E vabbè! Non c'è nessuna cotta, c'è solo da dire va bene, va bene, ragazzi. Detto questo, detto questo, siete sempre più iscritti, il like un fiore sta funzionando, ci sono un sacco di ragazzi in questo canale che mettono il like sui miei video e si prendono le gnocche e gli stanno arrivando a tira le gnò mettere il like sul mio video è un fiore, ti arriva un fiore dalla vita, lo sanno tutti ormai, un like, un fiore, un fiore, una gnocca. Questa è una. L'altra seconda cosa è iscriviti. La terza cosa è il commento, la quarta cosa è che ho fatto tre ore di live. Sono stanco. La quinta cosa è metti la campanella se sei iscritto. detto questo, ragazzi, ci vediamo domani, ci vediamo alla prossima notizia di me, qualche notizia che vi voglio dare. Domani ci sarà Spall'Inter, magari ce la vediamo, anche quella in live. Le live sono sempre più numerose, ci divertiamo sempre di più. Vi ringrazio a tutti, ragazzi, e forza tutte le squadre tranne la Juve. Però, porca puttana, quanto ci rimango male se vince questo campionato. Porca puttana delle puttane. Ciao ragazzi. Grazie. Grazie.